Samsung presenta al mondo il suo nuovo smartphone, il Galaxy S4, un evento atteso dal mercato che rappresenta un duro colpo per Apple nella battaglia tecnologica per il dominio della comunicazione mobile. Non a caso l'annuncio è stato fatto proprio a New York, in casa del rivale americano. Il nuovo modello presenta uno schermo più grande, 5 pollici, con risoluzione maggiore rispetto al suo predecessore, l'S3, lanciato nemmeno un anno fa. Ma è più leggero e più sottile, la batteria e la fotocamera sono più performanti. Il sistema operativo è sempre Android e Google, ma ciò che lo differenzia da tutti gli altri sono alcune particolari funzioni, in primis il comando con gli occhi. Se si sta guardando un video questo si interrompe quando si sposta lo sguardo e riparte quando gli occhi tornano sul display. Non solo, tra le altre novità, anche il traduttore automatico con nove lingue disponibili e la possibilità di sfogliare immagini e pagine senza alcun tocco, semplicemente avvicinando la mano allo schermo. Il Galaxy S4 verrà lanciato in 155 paesi a partire d'aprile, a un prezzo però non ancora precisato.